Sono passati in un po' di anni 30. 35 78 80 90 Vai 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 Non so se si vive ancora più Con noi Dino Gattaroli e Unicidino Grandi anni e prezzi Nel senso il più bello di lui Allora, nella carriera Come lui gioca avanti, se uno viene giocato alla punta, se va lui. Sì, beh, io ho fatto 9 anni stupendi, dove ho avuto grosse soddisfazioni a livello sportivo e poi a livello anche personale, umano, perché mi sono trovato bene i figli ubi e ogni volta che vengo provo qualcosa di particolare, qualcosa mi si muove dentro, qualcosa di questa terra mi ha lasciato e questa è la cosa che penso sia più importante che te la porti poi negli anni, poi la gente ti ricorda proprio quello che è in campo, ma soprattutto voi venite proprio quello che è di fuori, mi ricordi, mi sono da lei, quello che avete fatto a voi i tuoi anni è stata una cosa storica per i dimenticati, soprattutto per Friuli, eravamo negli anni del terremoto appena passato, cioè tutta questa gente, il fatto che voi come squadra avete dato questa grande situazione è stata una cosa di dimenticare. Sì, ma la storia poi delle squadre, delle società parte sempre dall'inizio, se non c'erano quei tempi lì, adesso l'ultimese non sarebbe, con miglioramenti i tempi cambiano, però va dato atto poi a chi ha saputo lavorare, mette il primo mattone e poi dopo chi ha continuato c'è il cambio di migliorare e va dato merito poi adesso alla società che c'è tuttora per quello che sta facendo, che sta dando ancora a questa terra che speriamo quest'anno si tolga qualche soddisfazione come America. Ok, grazie, è sempre un piacere. Ciao, grazie a voi.